Capace di trasformare l'entusiastica certezza i sogni degli studenti e dei cittadini onesti. Lei rappresenta il bianco dell'edita e del lavorare, valori più recitivi. E lei rappresenta il rosso del coraggio, il coraggio di chi crea e del cambiamento anche attraverso la scuola. Quest'uomo ha dedicato i gittegni e gli studenti, facendo comprendere loro che c'è sempre una seconda possibilità e che il figlio di un mafioso non è destinato a diventare un mafioso. Altrimenti, ripeto, un suo dubbio, un curatore, non si adepretterebbe la fabbrica dei mafiosi. Un figlio dei mafiosi mafiosi può avere una seconda possibilità. Questo perché grazie alla scuola, la scuola intesa come palestra di vita, che palestra di democrazia, e dunque il rosso del suo coraggio, un coraggio che mi viene ancora oggi, sostenuto dalla comunità rosanese, dai miei studenti, dai miei docenti. Grazie a te, il procuratore. Grazie a te, il procuratore, grazie a te, il procuratore.